Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana partendo dalla 11 dove a causa di un incidente si segnalano possibili disagi tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Si consiglia inoltre prudenza a causa del maltempo con pioggia e forte vento che stanno interessando gran parte delle principali tratte autostradali e stradali della Toscana. Sulla statale 1 Aurelia si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata tra Scarlino e Pollonica Nord in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Pollonica Est in entrata e in uscita in direzione Nord. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze ancora disagia la circolazione in via Benedetto Fortini a causa di materiale in carreggiata. Chiudiamo con i traghetti, a causa del maltempo sono state cancellate tutte le corse Livorno e Elba fino alle 20.30 di stasera e per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!